Non ti guarda? Lo vivo so Ma dai! Io ho fatto il mio appartamento Hai preso il bottino prima, beh! Hai preso il bottino prima, era per caso? Non ti guarda? Non ti guarda? Non ti guarda? Ehi, boc bullets! Non ti guarda? Non ti guarda? Non ti guarda? Io sono Stefania, io sono Stefania, io sono Stefania Io sono Stefania, 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 io sono Stef Ah sì, ciao 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 Facciamo un po' la ripresa a questo Tappo a un motorino Anche a noi Ma ti ricordo In questo giorno fino a voi Ciao, tu che fai Rossino, quando hai finito di riprendere? No, aspetta Vabbè, non ti pare vero, è tutto da onde Ciao È il nome, è il nome Anche io Allora io mi chiedo Valessia Ti presento la mia amica Valentina Ok Eh, come ti chiami come? Agostino Agostino, ci vediamo, dimmi dove, dimmi dove abiti No, ma sei un po' Scusa, non lo posso fare tutto insieme Allora, presentati Ciao, sono Morena Ok Presentati Io sono Alessia, ciao, ci sentiamo Ok Ciao Ciao Vittima Venti Ciao Antonello e le prese Ciao, sono Luca Ciao E tu? Ciao, sono Andorella Ciao Io sono Ciao 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 Aspetta, ripendi lo sport ARIBIT